Il tragico è evidente, cioè l'idea di violare una città e un capolavoro, sottraendolo alla collettività e forse anche consegnandolo a un destino come quello di alcune di queste versioni che potrebbe essere stato dato ai porci da mangiare o addirittura usato come scendiletto per qualche capomafia. E dall'altra però anche qualcosa di grottesco, di profondamente commedia. Ecco, mi è sembrato la storia giusta per un film sul cinema e soprattutto per ridare al cinema quel ruolo che oggi, che in qualche modo si sente più fragile, si sente quasi all'angolo, continua ad avere, cioè la possibilità di risarcirci di un'altra versione rispetto a quello che ci offre la realtà, che illumina questa realtà e la rivela in modo molto più profondo. E mi piaceva che appunto i protagonisti di questa vicenda fossero le persone che si occupano dietro le quinte di un film e quindi una sceneggiatrice che lavora per un altro sceneggiatore che ha dei problemi di crisi creativa, un produttore che cerca di mandare avanti questa storia con un suo piccolo eroismo per cui anche se non sa il nome di questo sceneggiatore va avanti e tutto quello che sta dietro questo artigianato sublime che c'è dietro il cinema, ma una mescolanza dove a volte c'è cialtroneria, a volte c'è il sublime appunto e quindi il film diventa in un certo senso il dispositivo investigativo per arrivare a una verità. Il personaggio che fa Renato Carpentieri usa questa storia per arrivare a una verità e quindi si accosta a questa sceneggiatrice con cui c'è anche un legame che si scoprirà alla fine e con la spregiudicatezza che hanno a volte gli investigatori mescola gli affari privati, il suo affetto anche a desiderio ossessivo di venire a capo di questa storia. Ci siamo molto divertiti, è un film che ho fatto col divertimento di chi vuole riproporre una storia, di chi vuole che anche lo spettatore si perda in una storia, come ci si perdeva in certi anni quando ci siamo formati al cinema vedendo certi film che sono rimasti indelebili e c'era il gusto di seguire le svolte di una storia. C'è molta gratitudine nei confronti degli sceneggiatori perché mi sento fortunata perché mi scrivono sempre dei ruoli bellissimi, quindi grazie. Poi in questo caso ancora di più perché Roberto mi ha detto, in effetti vedendo tutti i tuoi film che sono la prima protagonista femminile in un suo film, quindi sono grata ancora di più. Quando ho letto la sceneggiatura ho iniziato ad osservarli ancora di più, gli scrittori, gli sceneggiatori, perché interpretando una scrittrice non era semplice, perché gli scrittori hanno una grande capacità che è quella di osservare e saper raccontare, mescolato poi all'immaginazione, alla fantasia, quindi in realtà non sapevo da dove partire. A un certo punto ho guardato Roberto e ho detto, senti, mi infilo gli occhiali come Roberto e inizio a rubargli qualcosa a quella. E ho iniziato a rubacchiargli il suo sguardo, che in qualche modo guardava noi, guardava il set, la troupe, poi pensava ad altro, lo sguardo se ne andava da un'altra parte. E questo che ho cercato di dare, non so se ci sono riuscita, ma è questo che mi interessava, lo sguardo di chi sa raccontare ha uno sguardo molto diverso. Beh, non può esistere un buon film senza una buona storia, una buona sceneggiatura, quindi è fondamentale, è essenziale. Quando ho letto questa storia ne ho apprezzato finalmente la complessità, che non è proprio sempre di casa nel cinema italiano. E quando ho visto il film, non voglio dire che mi sono stupito, ma sono stato veramente molto colpito dalla capacità di Roberto di rendere quella complessità comprensibile per qualunque tipo di pubblico. con gli sceneggiatori, ho avuto sempre un buonissimo rapporto, non so dirvi se mi è capitato di lavorare con finti i sceneggiatori, questo non sapremo mai, in questo caso mi sembra di poter asserire che non sia questo il caso, ce l'hanno scritta veramente loro, e meno male perché è una bellissima sceneggiatura. Allora, il mio rapporto personale con gli sceneggiatori è di stima, il rapporto del mio personaggio con gli sceneggiatori che deriva da una necessità, cioè questo pensionato che però c'è l'ossessione del quadro del furto del quadro del Caravaggio è rimasto ferito da questo furto e ha accumulato una serie di dati, però non gli bastano. cioè i dati solo non sono sufficienti a scoprire che fine ha fatto questo quadro e quindi ha bisogno di una forza di immaginazione, di fantasia, ha bisogno di un raccontatore di storie, perché solo immaginando storie si riesce, come dire, a penetrare in mezzo ai dati, cioè nelle parti oscure dei dati. e allora ne sceglie una, poi vedrete per quale ragione, c'è anche un'altra ragione, ed è lei da quel momento in poi a portare avanti, ecco, cioè sceglie il cinema, a portare avanti la storia, certo supportato dall'investigatore, ma è lei, è questo film che si può fare, si fa e in qualche modo determina anche pezzi di realtà. e alla fine, cioè noi abbiamo la soluzione, la nostra soluzione, cioè scopriamo una soluzione diversa da quella delle sceneggiature scritte dai pentiti. questa ferita in qualche modo si rimargina, questa ferita dei talebani italiani, cioè i mafiosi italiani, no, che sono distruttori di bellezza, in qualche modo alla fine con, appunto, con lo scrivere il film si rimargina. se dovessi dare, cercare di definire questa cosa, penso che abbia a che fare con la mia provenienza, cioè la Sicilia è un luogo dove l'impostura è in agguato, e lo è proprio drammaturgicamente anche negli aspetti più, non solo perché c'è stato un grandissimo personaggio che è Cagliostro, che è stato proprio, ma anche perché proprio una delle maschere dell'intelligenza siciliana è, appunto, questo giocare una cosa che non è. e in fondo forse la Sicilia in questo perde qualche cosa, perché sempre scommette, sempre, diciamo, al peggio. però, diciamo, ci può essere anche una dimensione giocosa dell'impostura, comunque drammaturgicamente è molto affascinante, perché ti permette di entrare in un segreto, di lavorare con l'attore in una certa dimensione, di non rivelare. In questo caso, tra l'altro, diciamo che la grande impostura c'è anche da parte del crimine, perché, appunto, questi pentiti hanno utilizzato il quadro accreditandosi coi magistrati e raccontando delle versioni che potevano essere utili a loro. Poi si è scoperto, progressivamente, che erano dei depistaggi. Quindi è un livello stratificato di impostura. Ecco, ma diciamo che mi appartiene l'idea che l'identità è un'invenzione. Ecco, io direi che la cosa più affascinante che ci deriva da Pirandello è che l'idea che l'identità non è un fatto che noi abbiamo e riceviamo, ma è una continua invenzione da proteggere, custodire e alimentare. Ci inventiamo sempre qualcosa, forse perché non sappiamo realmente chi siamo, abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci dica che cosa dobbiamo essere. Questo è interessante. Io penso che il doppio, il gioco della doppia faccia, dell'impostura che c'è in ogni personaggio è molto attraente, è la parte eccitante, perché lei che è una scrittrice e scrive nell'ombra, in realtà lei è un grande godimento e un grande divertimento a rimanere nell'ombra. Lei piace quando si chiude col suo computer nel suo mondo. Lei, d'altro canto, è cresciuta con una mamma così come lei. Non se ne è neanche, se ne libera un po' man mano, perché è di rimpettaglio e vivono di fronte. Quindi c'è chi piace esporsi, c'è chi piace stare nell'ombra, ma credo che c'è una sorta di eccitazione per entrambe le cose. E qui c'è la doppia faccia del personaggio, che a un certo punto sta nell'ombra e poi a un certo punto inizia a sentire che questa storia l'ha presa e quindi dalla finzione, dalla sua scrittura, l'entra nella realtà, nel vivo della storia, dove inizia anche a sentirsi da che era subalterna sentimentalmente, si sente sensuale, inizia ad avere dei rapporti con altri uomini, inizia ad uscire da questa specie di bolla, da questa timidezza, inizia anche a esplorare un attimo la sua femminilità. Quindi questo mi piace di questo personaggio, l'ho trovato molto attraente, quindi grazie ai sceneggiatori. Quelli veri? Quelli veri. Quelli veri. Beh, io insomma porto con questo personaggio una buona parte della commedia presente nel film di Roberto e rappresento, diciamo, il cialtrone, no? Il cialtrone è, come sappiamo, drammaticamente presente nella nostra società, diciamo che è una società che è permeata di cialtronaggi e che ci fa ridere, ma ci fa drammaticamente ridere, perché sono la causa principale di tutti i nostri problemi. Se noi andremo a sbattere, cosa che non mi auguro, è perché continuiamo a ridere dei nostri difetti. Lo facciamo da sempre attraverso il cinema, si continua a fare anche con i film di Roberto, però è una risata sempre più amara, sempre meno... sempre più preoccupante, quindi mi fa piacere che anche la cialtronaggine sia degnamente rappresentata in questo film. È vero, sono personaggi... molti personaggi sono nascosti, doppi, travestiti, e questo, cioè da sciascia in poi, cioè voglio dire, la Pirandello, cioè questo è in questa nostra cultura, insomma, e mi sembra anche il fascino annuare, cioè quindi il pensionato non si presenta come è, perché e per come, ma affida un blocco di dati alla sceneggiatrice. La sceneggiatrice è una sceneggiatrice ombra, cioè una ghost writer, che si trova, si trovano in una camera a fianco a uno, a un personaggio doppio. Insomma, fa parte, sì, fa parte, giustamente, gli sceneggiatori hanno utilizzato, e questo ha anche, cioè, gli intrighi di questo film sono numerosi, anche se leggeri, anche se divertiti, appunto, come dice il nostro regista, commedia beffarda, ecco, questa commedia beffarda è data, è data da, anche da questo utilizzo di, di, elementi proprio del noir, quindi, la doppiezza, i travestimenti, il, cioè, proprio la camera a fianco, cioè, no, è un'altra cosa, uno sta proprio a sentire alla camera a fianco, e mi sembra, anche, anche, la mamma della sceneggiatrice c'è una sua doppiezza, cioè, nel senso che dirige, no, ma fa finta di niente, quindi, mi sembra una cifra giusta, insomma, essendo una commedia beffarda. È capitato varie volte di avere a che fare con dei registi, come attori, che una volta ha avuto Custurizza, e nell'ultimo film avevo rischiato di avere Polanski, che poi, per ragioni sue personali, non ha potuto fare il film, e qui mi sono, era necessario che ci fosse un attore che faceva il regista, mi è sembrato più logico che fosse un regista vero, e, due anni fa, qui a Venezia, dove ero stato invitato da Alberto Barbera a fare il presidente, della giuria dei classici, ho incontrato in varie occasioni a cena Scolimoschi, e me lo sono guardato, perché è notorio che Scolimoschi abbia una grande faccia, che abbia fatto anche l'attore, e quando ho scritto questo ruolo mi è sembrato, come dire, giusto che fosse uno che veniva da quel mondo lì, magari che stava negli Stati Uniti, che fosse giusto all'età, perché è un regista un po', che c'è un'ultima chance, e anche quel carattere che ha lui, un po', fascinoso, misterioso, un po', anche legato al thriller, non so se vogliamo, e quindi l'ho chiamato, e lui era molto felice, ha letto la sceneggiatura, gli è piaciuta molto, è stato, tra l'altro, un attore strepitoso, perché diligente, come tutti gli altri, devo dire, anche costurizza, i registi che fanno, si prestano a fare gli attori, sono sempre impeccabili.